Siamo qui con il vice sindaco Daniele Tiozzo Brasiola, verso l'istituzione della ZTL. Come si inserisce la nuova ZTL con le richieste dei commercianti? Buongiorno a tutti. Allora, questo percorso che andiamo a intraprendere, che porterà all'avvio della ZTL, è un percorso che sostanzialmente dà risposta alle richieste della cittadinanza, delle associazioni di categoria, un po' anche della politica tutta, che c'ha sempre, fin dal primo giorno, evidenziato la necessità di un riordino del nostro certo storico, la necessità di un maggior decoro e anche di più sicurezza, perché in questo momento, come è possibile vedere a tutti, c'è un transito incontrollato dei mezzi che creano anche delle situazioni di pericolosità. Io penso che far trovare la nostra città pronta ai turisti, ma anche ai nostri semplici cittadini che vengono qui per spendere e comprare nei nostri negozi, far trovare una città ordinata sia un valore aggiunto e invogli soprattutto le persone a venire. È giusto sfatare il mito perché qui non stiamo chiudendo la città, anzi, la stiamo solo riordinando, stiamo utilizzando uno strumento che sia da ausilio all'operato della polizia locale e il transito in Cale San Giacomo e in corso del Popolo Sud rimarrà aperto, come è stato finora, e ci sarà la possibilità di parcheggiare nelle strisce blu che sono già presenti, quindi non ci sarà alcuna restrizione di questo tipo e non ci sarà nessuna restrizione, neanche per i residenti e per le attività commerciali, i professionisti che esistono nel centro storico, quindi è solo una questione di tutela. È uno strumento importante, tra l'altro di cui il nostro comune era già adottato e per il quale sono stati investiti cifre importanti dei soldi pubblici, ed era giusto arrivare al momento in cui le telecamere venissero attivate. Non si attiveranno oggi, oggi inizierà il percorso, come vi dicevo, di accreditamento, perché avrà diritto, seguirà una fase di sperimentazione dopo la quale andremo ad attivare le telecamere. Chiaro, è impensabile per nessuno fare un passo così importante, avendo la presunzione di avere già tutte le soluzioni e le varie richieste. Il regolamento da quale partiamo è una base, se poi si evidenzieranno alcune criticità e interverremo in modo da rendere uno strumento utile e non problematico.